Ok, allora, tutti alla fine di questa splendida serata all'insegnare l'amicizia e l'amore più riusi fatevi prendere dalle belle posizioni e dalle belle esperazioni questa tipica let, good time, wow e la conoscete tutti? non fate finire di niente, adesso la belle è più a sesta e poi giocherà voi sentate ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.